Il rapporto è stato sempre un buon rapporto con i cittadini, con la città di Torino, in quartiere, ma fissare una giornata proprio il 11 di giugno, una dimostrazione che tutti i centri islamici torinesi sono abberti al pubblico. E questa è una segnalazione molto positiva, molto integrativa, molto anche abberta verso tutti quanti a spiegare, a conoscerci meglio, a avvicinare ai nostri cittadini, che la comunità islamica fa parte di questa città, deve avere anche un'embronte molto positiva nella società torinese.